Benvenuti al mio canale Anna Italia, sono ucraina, cittadina italiana, origine ucraina, oggi facciamo frittata di asparagi, amici, ho fatto asparagi a vapore, questo per decoro, vedete, questo un pochino finocchi mi rimasti così, per forza devo mangiare, 4 uova, 4 uova sbattute bene, 4 uova, goccia di acqua e asparagi fatti al vapore, c'è questo formaggio comprato a Lidl che è meglio non comprare, vi consiglio non comprare perché è buono, però sopra, questo da griglia si chiama, però sopra danno così tanta questa salsa, vedete, chissà che mettono in questa salsa, meglio qualcosa più naturale, ma io ho comprato una volta per assaggiare e quando ho riscaldato sembra un po' gumoso così, è buono, gumoso un pochino, ma non c'è niente di che, perché non mi fido questa salsa di sopra, ecco qua, c'è vino da mettere nel bottiglia, vedete, è già tutto pronto, questo vino mi hanno regalato, uno che ce l'ha, un uomo, un uomo che ce l'ha 90 anni, mi ha regalato questo vino e questa qua, bottiglia già pronta di vetro, padella pronta, mia unica padella che è 28 cm, amici, perché io sono minimalista, diventata minimalista dopo quando ho fatto tanti trasloghi, diventata minimalista e sto molto bene, ce l'ho questa unica padella, unico coperchio 28 e ce l'ho anche piccoli, questi, guardate quanti, quattro coperchi, questi quattro pentoli e tutti miei, basta, non voglio più avere nessuna pentola, mi entra tutto qua e arrivederci, arrivederci in senso che mi basta così, perché siamo in due, siamo in due e si sta molto bene in due, mio figlio grande, già cresce da, cresce, già cresce, già cresciuto molto grande, vive da parte, e per questo iscriveteci al mio canale, iscrivetevi un bel like, perché mi piace da morire fare video, io anche se mi guardano pochi, ma io faccio, faccio questo video, perché io sono molto appassionata, fare video è mia passione, e voglio fare sempre, sempre meglio, sempre meglio, devo trovare più tempo, perché io lavoro, lavoro tanto, e mi piace guadagnare, e mi piace tanto avere soldi, perché comprare belle cose, per questo voglio lavorare, però video è mia passione, mamma mia, cucinare mi piace tanto, però non mi piace mangiare, e come faccio? Come faccio io? Perché quando si mangia si ingrassa, alziamo un pochino qui in alto, sette, ora deve essere caldo caldo caldissimo, e dopo si abbassa, così i bordi devono essere belli, 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 azzuppati di olio, bene, induzione mia, sempre pulita, sempre briglia, sempre perfetta questa induzione, io gas proprio non sopporto, e non ce l'ho nemmeno k, vedete, k non c'è, e non mi serve, k, perché finestre vicino, finestre sporche, ma da lavare perché pioggia da noi, olio, amici, olio deve essere sempre italiano, 100%, non europeo, perché in Italia fanno controlli molto forti, Europa non fa controlli come fa in Italia, io preferisco tutto italiano, io molto, molto appassionata di questa Italia, che è diventato mio amore da primo, da primo sguardo, da primo tutto, gente, gente, cibo, clima, clima, clima numero uno, mare sotto casa, io ce l'ho, molto vicino, e mi piace tantissimo, mi piacciono gli italiani, mi piace questo stile italiano, quello stile, è bello, ce l'ho brutta pianta da buttare, mamma mia, non voglio prendere, non voglio, perché mi piacciono vedere sempre belle cose, e questa qua è entrata nel mio video, guardate che vecchia questa qua, devo buttare, oggi lavare, perché ho lavorato in questi giorni, e quando lavoro, lavoro, e quando non voglio fare niente, non voglio fare niente, macchinetta caffè, ecco, da lavare, benissimo, caldissimo, e ora mettiamo, mettiamo questa frittata, sale, pizzico di sale, poco poco, bene, andiamo via, andiamo via, mettiamo qui, così, ecco, bene, 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 veloce, 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 energia, amici, energia, deve essere, assolutamente, tutto si fa bene, veloce, e si copre, assolutamente, ah, non sai, lo sapete che volevo dire, questa no, decoro, perché volevo lasciare per decoro, questo qua, ma ora metto subito qui, perché decoro non sarà, ecco, così sarà, sopra, manca qui, vedete, manca qui, decoro non serve, perché già si vede giallo e verde, questo qua, ecco qua, coperchio deve, deve, non deve mancare, coperchio deve essere sempre, sempre, coperto bene, bene, questo coperchio è un po' rovinato, vedete, perché questo ho messo nel forno caldo e mi si è rovinato, meno male, che puzzava tutta casa, ora, un minuto e poi, abbasso, meno, meno e meno, a 5 e poi devo girare, girare, bene, ci vediamo dopo a tavola, amici, vi aspetto a tavola, perché dopo si beve anche questo vino sfuso, questo vino sfuso deve essere molto, molto buono, mi ha regalato uno, io, aiuto portare bottiglie, lui, no, c'è uno anziano che ce l'ha, 92 anni, sì, e lui prende queste bottiglie, no bottiglie, questa titana da 25 litri, io aiuto portare a garage, ma non ce la faccio nemmeno io portare quella titana da 25 litri, che pesa non so quanti chili, ma lui prende e beve sempre, no, no esagerato, non esagerato, perché è un uomo per bene, un uomo ex carabiniere, e per questo lui diluisce con, no, diluisce, no, 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 ah, sì, 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 lui diluisce con acqua, lui mi ha detto, diluisco con acqua, e lui diluisce con acqua, ancora coperchio e aspettiamo, aspettiamo, amici, mi serve, ecco qua, questo, perché dopo devo fare così, così, e devo trovare, e devo trovare, amici, un piatto, forse questo mi va bene, papà, vediamo, per girare, questo è bello grande, comunque mi ha regalato questo vino, che lui ce l'ha questa abitudine, bere sempre vino a colazione, no, colazione, no, a pranzo diluito con acqua, e cena diluito con acqua, lui non vuole smettere, perché lui ha detto che questo vino è lunga vita, e lui è abituato, uomo di vecchi tempi, uomo di vecchio stampo, e basta così, e lui mi ha regalato questo vino, perché io questa titana di 25 litri, che pesa, 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 le ho porto in garage, dopo lui mette nel bottiglie di vetro, ma per questo lavoro che io aiuto a lui, lui mi sempre regalia questa bottiglia da un litro, amici, un litro, e ora noi beviamo piano piano, con il mio compagno, mettiamo qua, vedete, tutto pronto, e ora si mangia, allora venite a tavola con noi, a tavola con noi, tutti, 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 perché è stagione, stagione di asparagi, mangiamo asparagi, amici.